Le donne e i bambini si nascondano nei carri. Vi prego di scusare le loro rozze maniere. Sono come fanciulli e non sanno quello che fanno. Salve! Armano Tobia, che rido! Passavamo di qui per casa e ho detto ai miei uomini perché non andiamo a fare una visita al mio amico Tobia, vero? No, non esiste, l'ermano. Non voglio approfittare della tua ospitalità tutti i giorni. Come vuoi, fratello. La mia mensa è la tua mensa, lo sai? Ah, sì? Allora ne approfitto. Ombre! Perché non mi hai ricordato di togliermi il cinturone? Lo sai che l'ermana Tobia non vuole vedere armi alla sua mensa. Dov'è il vino? Ma questa è acqua! Dov'è il vino? Noi siamo a stemi, fratello. Dov'è il vino? Voglio il vino! Ecco da puto! In fila! Mi voglio in fila! Queste tornacchie! Oh, via! Dov'è il vino? Va bene, il vino non c'è, ma potremmo spartirci la tua donna. Un momento, fratello, ascolta. Certo! Come ti permetti l'urido ladrone? Questi sono i miei fratelli! E i miei fratelli, le sicchia sono io! Dove vai? Capito! Capito! Questo mio nuovo, non l'ho mai picchiato prima. Mi ha fatto male, capo! Capito! Piccchialo! Piccchialo! Ce ne andiamo capo Fratello io volevo avvisarti che questi miei ospiti appartengono a un'altra confessione E osservano la legge biblica occhio per occhio, dente per dente Quindi vogliate perdonarli e tornate un'altra volta E' meglio Grazie